Lo dico subito, è vero che se il Genoa avesse pareggiato contro l'Inter ieri sera non avrebbe rubato nulla. Ayroldi ci deve ancora spiegare cosa ha visto, che rigore ha fischiato, l'ha visto 200 volte al VAR e poi ha confermato la sua decisione che appunto in presa diretta è stata quella di fischiare un rigore su Barella che anche per me era molto dubbio, però mi sono concesso qualche tempo in più per vederlo, per giudicarlo e alla fine anche io dico ma cosa ha visto? Tutto vero ragazzi, tutto vero, però è anche vero che l'Inter ha rivinto nonostante tutto e sentire determinate frasi, determinati pareri da alcuni addetti ai lavori, da alcuni opinionisti, da alcuni youtuber, lasciano il tempo che trovano ragazzi, sono illazioni, sono frasi senza senso e ve lo dice un romanista, però bisogna essere onesti e dire quello che sta succedendo in questo campionato 2023-2024 senza sparare a zero e dire cazzate, scusate del termine, intanto però vi ringrazio a tutti per i like, per i commenti che io leggo sempre tutti e per le iscrizioni ragazzi, grazie tantissimo, infinitamente e anche a chi mi è venuto a seguire sul mio profilo Instagram, lascio il link qua sotto in descrizione se qualcuno vuole lasciarmi un commento, un messaggio, ma anche un solo saluto, insulti no, qualche insulto l'ho pure ricevuto, però vabbè ci sta anche quello se vuoi stare sui social è normale che a qualcuno puoi essere non simpatico, ma andiamo al dunque ragazzi, ieri sera dopo la partita ho sentito tantissimi tifosi di squadre avversarie, addetti ai lavori, opinionisti, youtuber, Marotta league, Marotta league, continuano imperterriti a rubare, Marotta come moggi, Marotta come moggi, ma ragazzi ma vi rendete conto delle eresie, delle stronzate che dite? Io posso capire che magari qualcuno non è contento del campionato dell'Inter, qualche tifoso che magari ce l'ha qua, la squadra di Simone Inzaghi e di Marotta, non lo capisco, ma molti addetti ai lavori che ci campano con il calcio, che ci lavorano non possono permettersi di dire una stupidaggine del genere, Marotta league rubano sempre come ogni domenica, come ogni partita, ma sono 4-5 partite che vincono 4-0, ma che rubano? Cosa rubano? Ma vi rendete conto delle stupidaggini che dite? Ci mettete anche la faccia? Sì, ieri è stata una svista, è stato un errore clamoroso di Airoldi che oggi magari ci spiegherà, non lo so, nella giornata odierna spero che ci dica per quale misterioso motivo abbia fischiato questo rigore, che io ancora non l'ho capito, magari era rigore e lui ci spiegherà per quale regola, per quale fottuto motivo ha messo il fischietto in buca e lo ha confermato anche al VAR, non lo so, ma dire che l'Inter sta vincendo questo campionato perché Marotta muove i fili, no, muove alla stanza dei bottoni come aveva moggi un tempo, secondo me è una roba proprio da matti, roba da matti ragazzi, l'Inter sta facendo un campionatore, non sono l'avvocato dell'Inter io, perché è indiscutibile questo che sto dicendo. 15 punti dalla seconda e sono tutti i regali degli arbitri del VAR, dai ragazzi ma tornate sui vostri passi, non siate ridicoli, dovete apprezzare quello che vedete in campo anche se non siete tifosi interisti e ve lo dice un amante del calcio che ci ho giocato anche, non da professionista però qualche partita l'ho vissuta, qualche campionato l'ho fatto e vedere una squadra che gioca in una maniera come l'Inter è soltanto da fargli i complimenti e basta, poi ci sono degli episodi a sfavore e degli episodi a favore, alla fine si compenseranno, vedrete che alla fine del campionato ci sarà un'equità, ma anche se magari il computo delle occasioni a favore dell'Inter potranno essere col segno più, che magari avranno più episodi a favore, dire che il campionato che si accinge a vincere l'Inter è grazie alla Marotta Liga, grazie a Marotta che riesce con i suoi sotterfuggi a far vincere le gare a Simone Inzaghi, ragazzi cambiate espressioni, cambiate mentalità perché non è la strada giusta, dovete soltanto essere sinceri e dire onestamente che ieri come qualche equilibrato youtuber ha detto i rigori potevano starci, ok? Ma l'Inter non ha rubato niente, perché le occasioni per segnare il 2-1 anche se non ci fosse stato il rigore ce le ha avute, poteva fare con Mkhitaryan, con Barella, con Lautaro, con Turam, anche Genova, per carità ieri Genova ha effettuato una gara eccezionale, dobbiamo fare i complimenti a Gilardino e al Genova, io l'ho detto anche nel mio video per carità, ieri Genova ha viso aperto, ha affrontato, ha sprombattuto, senza paura l'Inter e l'Inter, dobbiamo dire pure che non può camminare sempre nello stesso passo, con lo stesso ritmo non può vincere le partite tutte 4-0, ragazzi, va bene che è la squadra più forte, però ci sono anche gli avversari e dire che sta rubando, che è la Marotta League, secondo me non fa bene al calcio e non fa bene soprattutto a chi lo dice, secondo me non ha capito nulla del calcio, non ha capito nulla di questo sport e vedere l'Inter che gioca a memoria con fraseggi, con transizioni positive e negative, con i braccetti della difesa che vanno al tiro, Carlo Sagusto, Pavard si inseriscono sempre con sovrapposizioni, con un calcio totale dove nessuno ha un ruolo predefinito ma si interscambiano a seconda delle situazioni, questo dovete vedere, queste sono le dinamiche del gioco dell'Inter che quest'anno non ci sta facendo capire nulla a nessuno, non vi fermate sugli episodi che magari possono essere anche veri quegli episodi dubbi per carità, ma dire che l'Inter sta vincendo questo scudetto per la Marotta League per non so per quale motivo poi interno alla stanza dove governano il calcio, ragazzi non lo so, magari voi sapete fatti che io non sono a conoscenza, però lo dovete dimostrare ragazzi, non dovete riempirvi la bocca per dire stronzate, scusate del termine, gratuite perché magari vi rode che l'Inter sta dominando il campionato e la vostra squadra magari la sta guardando dal basso in alto, non è sport questo ragazzi, non è fair play, datevi una regolata e fate giudizi equi, non sono io che ve lo devo dire perché io non sono nessuno, però cerco almeno di essere equilibrato nei commenti e nei giudizi, ragazzi buona giornata a tutti, ciao da Enrico Caffarelli